Buongiorno cari amici di Beccioli Network e Rete Informazione Europea. Qui Milena Dabamber con un nuovo notiziario della Germania per oggi domenica 23 giugno 2024. Che la Germania sia in recessione è ormai notizia nota, per oggi vi voglio dare qualche numero. L'anno scorso in Germania si è verificato un vero e proprio collasso industriale. Matematicamente un'azienda chiude ogni tre minuti, però solo una piccola percentuale ha dichiarato il fallimento. La morte dell'azienda corrode da tempo il cuore dell'economia in Germania. La deindustrializzazione avanza. In termini puramente matematici in Germania un'azienda fallisce ogni tre minuti. Lo dimostrano i dati dell'attuale rapporto di chiusura intitolato La morte silenziosa dell'industria in Germania, dell'agenzia di credito Credit Reform e del centro Leibniz per la ricerca economica europea. Secondo questo rapporto lo scorso anno hanno chiuso 176.000 aziende. La maggior parte di queste aziende è uscita silenziosamente dal mercato, poiché solo l'11% di queste chiusure è stato il risultato di un fallimento. Rispetto alle cifre di chiusura del 2022 rappresenta un aumento del 2,3% in tutti i settori e dimensioni aziendali. Mentre nei centri urbani si nota subito la chiusura del parrucchiere, del negozio per uomo o del ristorante dietro l'angolo, nelle aziende industriali spesso non è così. I negozi abbandonati e le vetrine vuote colpiscono economicamente ed emotivamente le persone che li circondano, ma le chiusure dell'industria colpiscono il cuore della nostra economia. Così afferma Patrick Ludwig Hansen, responsabile della ricerca economica presso Credit Reform. Nel 2023 sono state chiuse circa 37.000 aziende di vendita al dettaglio. Nel settore dei servizi e consumatori hanno chiuso oltre 51.000 aziende. Dal 2022 al 2023 il numero delle chiusure nel settore edile è aumentato del 2,4% a 20.000 imprese, nel settore manifatturiero dell'8,7% a 11.000 chiusure. Secondo lo studio si tratta del livello più alto dal 2004. Di conseguenza nel 2022 il numero di nuove imprese è diminuito del 13% nel settore manifatturiero addirittura del 16%. Questo sviluppo ha portato ad un calo ovviamente degli investimenti della creazione di nuovi posti di lavoro in questi settori. Secondo lo studio i motivi per cui le aziende chiudono sono più diversi. Le difficoltà economiche rientrano in questo contesto così come le successioni aziendali fallite o le chiusure di aziende per morte, malattia o vecchiaia o altre cause private. Tuttavia il rapporto evidenzia che l'elevato numero di chiusure di aziende è dovuto principalmente a problemi economici. Gli elevati costi energetici e di investimento, le catene di approvvigionamento interrotte, la mancanza di personale e l'incertezza politica sono i problemi. Le piccole e medie imprese sono particolarmente colpite. Secondo il presidente dell'Istituto Tedesco per la ricerca economica di Berlino il livello delle chiusure di aziende non è storicamente elevato ma piuttosto il logico risultato di un'economia debole. L'economista prevede un ulteriore aumento delle chiusure nei prossimi anni. La trasformazione economica significa che alcune aziende chiudono in modo che nuove aziende possano emergere e svilupparsi secondo il presidente dell'Istituto Tedesco Fratcher. Alcuni settori industriali continueranno a contrarsi ma questo è accaduto ripetutamente nel corso della storia e non è secondo lui necessariamente motivo di preoccupazione. Per quanto riguarda il numero delle chiusure il capo economista della Commerzbank Jörg Kramer ha criticato l'attuale politica energetica che a suo avviso ha qualcosa a che fare con la deindustrializzazione in corso. Ha reso l'energia soprattutto l'elettricità molto più costosa che in altri paesi. Ciò sta attualmente spingendo l'industria chimica fuori dal paese. Buona parte di questa deindustrializzazione avrebbe potuto essere evitata secondo lui. Kramer ha sottolineato che le aziende abbandonano costantemente l'economia di mercato e ne nascono e crescono di nuove. Molte delle aziende che lasciano il paese non sono anti-economiche di per sé ma vengono convinte ad andarsene dai prezzi relativamente alti dell'energia. Secondo Kramer la deindustrializzazione libera naturalmente i lavoratori. I dipendenti licenziati possono trovare anche un altro lavoro, ha aggiunto l'economista, ma spesso con salari notevolmente inferiori. E questo è uno sguardo sull'attuale situazione economica della Germania in recessione e con previsioni sicuramente anche non rose per il futuro. Per oggi mi limito a questa notizia e vi do appuntamento alla prossima settimana. Mi raccomando continuate a seguire i programmi di Becciolini Network e Rete Informazione Europea e grazie di avermi seguito anche stavolta. Ciao a tutti!